Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1, rallentamenti per traffico tra BV1 con plana di Firenze Nord e BV1 variante in direzione di Bologna. Prudenza inoltre per maltempo su gran parte della regione, in particolare segnaliamo nebbia a banchi in A1 tra Pian del Voglio e Aglio, pioggia tra Chiusi e Ceprano, sempre in A1, in A12 tra Pisa e Rosignano e sull'intero tracciato della Firenze e Pisa-Livorno. I Fipili restano coi attratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada tra Cascina e la dilamazione per Pisa e tra Ponte d'Araove, Sponsacqua e Ponte d'Araestutto in direzione Mare. Ultima pagina per il traffico navale per maltempo sono cancellati i traghetti Piombino-Cavo delle 12.20, 14.55 e 17.35. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!